ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani io sono un insegnante di connessioni angeliche questo è il mio video di presentazione per il mio prossimo percorso di coaching della durata di ben due mesi dove insegnerò agli studenti come imparare a connettersi con la propria voce intuitiva interiore e con i propri angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele che io stessa ho ricevuto in tutti questi anni di grande lavoro energetico e spirituale di riallineamento con la mia anima e il mio vero se è molto particolare questo questo percorso in quanto ho scelto di fare un percorso di due mesi per dare la possibilità alle persone di assimilare tutti gli insegnamenti dell'arcangelo michele ma anche per imparare a risuonare con la frequenza degli angeli quindi un allenamento che che riceverete settimana per settimana quindi un lavoro ben strutturato che si suddivide in tre fasi allora nella prima fase verrà insegnata la lettura insegnato come imparare a leggere le carte attraverso una lettura di tipo intuitivo di tipo di tipo sensoriale cioè attraverso il vostro sentire voi sarete in grado di ricevere i messaggi la guida e l'assistenza ma andrete anche a sviluppare non solo il canale della senzienza del sentire della chiarosenzienza ma anche il canale della chiaroveggenza quindi il vedere l'udire eventualmente in base a quelli che sono i vostri canali più sviluppati ma andrete ad aprire questi canali in un modo sicuro in un modo protetto lavoreremo tantissimo sulla protezione sulla purificazione sulla liberazione sul radicamento insegnamenti fondamentali per canalizzare nel modo giusto per evitare stati alterati di coscienza per evitare di uscire dal binario questo è un metodo veramente sicuro al cento per cento che consiglio a tutti anche persone che già canalizzano ma in particolar modo le persone molto sensibili alle energie come me che vogliono affrontare questa questa come dire questa esperienza in maniera in maniera armoniosa in maniera gentile e per vivere l'esperienza angelica nella maniera più elevata e più pulita possibile e protetta soprattutto nel secondo livello verremo verrà in se livello nel senso nella seconda fase verrà insegnato come scrivere attraverso ispirazione del proprio cuore quindi una scrittura ispirata dove inizieremo proprio a sentire chiaramente la voce intuitiva dell'anima la vostra voce interiore la voce degli angeli dell'arcangelo michele che non sono altro che intermediari tra la vostra parte umana e la vostra parte divina e questo sarà un lavoro meraviglioso e straordinario verrete accompagnati da una profonda meditazione che vi aiuterà a entrare in questo stato molto profondo quindi entrare dentro di voi e non uscire nelle dimensioni le dimensioni sono dentro sono nello spazio sacro del vostro cuore questa sarà un'esperienza divina un'esperienza veramente molte persone che hanno partecipato ai miei seminari mi dicono sempre che si sono sentite a casa hanno toccato il cielo il paradiso dentro il proprio cuore nella propria anima sentire l'anima è un'esperienza straordinaria e poi c'è il secondo stè il terzo step che è quello di arrivare a una connessione diretta con l'arcangelo michele con i vostri angeli che operano nella coscienza mica elica e che in comunione di intenti con l'arcangelo michele e ai vostri angeli custodi vi aiuteranno nel vostro percorso quindi è molto utile questo percorso anche per chi sta cercando risposte in riguardo a una situazione specifica o particolare della propria vita o chi vuole fare chiarezza sul proprio scopo nella vita ascoltare l'anima è la via migliore per poi prendere eventuali decisioni e proprio attraverso questo percorso voi imparerete a risuonare con l'anima quindi due mesi è veramente il periodo giusto per completare la vostra formazione alla fine di questo percorso vi verrà rilasciato un certificato un attestato di formazione con l'associazione connessioni angeliche in diretta a stretto contatto con me e quindi che dire le iscrizioni sono ancora aperte ripeto iniziamo il 7 marzo 2022 valido per due mesi mi raccomando la classe sarà massimo di 10 persone quindi a numero ristretto proprio perché in questo modo io posso seguire a stretto contatto le persone in questo modo le persone si sentono accompagnate si sentono guidate molte persone hanno risposto a un sondaggio dove mi hanno detto non riesco ad avanzare da solo mi sento fuori dal centro mi sento confusa ho bisogno di una guida bene questa è l'opportunità che fa per te di affinare le tue capacità se hai già queste capacità molto sviluppate magari non sai come incanalare bene l'energia non sai come proteggerti non sai come radicarti questa è l'esperienza giusta che fa per te bene io ti saluto vi saluto tutti e ci sentiamo presto contattatemi mi raccomando se siete interessati a questo percorso riceverete ulteriori informazioni un bacione a tutti a presto ciao